buongiorno amici bentornati con Resque HQ per il terzo non dico il terzo tutorial diciamo la terza parte del tutorial che stavamo facendo ok riprendiamo la partita appena caricata abbiamo un'emergenza quindi fuochi artificiali mandiamo subito i nostri vigili del fuoco mandiamo questo e questo ok abbiamo sempre l'obiettivo di portare il boss al processo abbiamo sbloccato un po di cose veicolo antincendio eccolo qua il furgone della polizia questo ci serve alla grande altro che se ci serve quindi dobbiamo ingrandire il garage della polizia subito proprio poi dobbiamo prendere il nostro bel fulgoncino ops e lo mettiamo qui poi abbiamo altre cose nuove e non vedo più il bagno l'abbiamo fatto ci abbiamo i bagni si addestramento si stanza di servizio diciamo anche giusto il furgone della polizia ah non c'è più il punto ah perché abbiamo finiti tutti per sbloccare questa roba ok ok adesso è chiaro praticamente avevamo le stelline per sbloccare in questo momento solamente il furgone della polizia perché questo ci serve vedete preparate preparate con il furgone della polizia 8 poliziotti e alcune attrezzature delle forze speciali quindi tipo di ciotti dovremmo averli di giorno sì 8 di giorno e 8 di notte perfetto alcuni cittadini arrabbiati stanno comunicando in modo sempre più focoso andiamo all'auto di pattuglia ci mandiamo anche l'allievo perché no questo è ancora in costruzione perfetto non abbiamo ancora sbloccato possiamo fare nulla ma quando c'è il sovra c'è il sovra c'è il sovra c'è il sovra sono ottima dice non ce l'abbiamo molto rigidi al fuoco allora sempre che una parma una paracarmacia stia vendendo erba illegalmente dobbiamo voglia rinfraganza avete attrezzature forse speciali lunghe 3 a vedere questo fino a 8 quindi col furgoncino possiamo andare 8 poliziotti ok ok ops allora vediamo questo questo oh 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 Grazie a tutti. Abbiamo due candidati, un candidato, un candidato poliziatto, che non abbiamo armadietti, facciamo 10 vigili del fuoco, il giorno devo provare a mettere un armadietto, il diverso fuoco. Grazie a tutti. Ok. Grazie a tutti. Ancora niente di nuovo. Allora, che cosa deve fare? Questa roba. E con i fogli artificiali, bla bla bla. Uno, due. Questa piccolina... Adesso qua. Facciamo due. Oh, ecco un classico per la polizia. Il bar dello sport in città è stato lo scenario di una vista dopo il derby. Non si è pronta? Non segue il calcio? Un problema che... Si deve essere pronta. Ma... Il problema è che faccia rischiavo. ovviamente quando rientra questo andiamo questi quando rientra questo andiamo andiamo a fare ok sembra che una farmacista stia vendendo comunque troppo ripetitivo queste cose veramente ripetitive che c'ho la macchina trattamento del sospetto è un corso il primo sospetto ha preso in consegna alla persona da tenere indivisione after they've been processed they leave into freedom or to a proper prison that is for the law to decide your business in fact is making money ok e il loro sospetto ok allora ufficio andate file in caso stanza di servizio guardate roba barrage attrezzature forze speciali ma questo è grosso quindi ora facciamo così ok ho migliorato oh aiuto aiuto è scoppiato un incendio 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 questo è scoppiato un incendio 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 il segreto forzo speciale lo voleva la chiusa a rossa la polizia serve bene le nostre però beware of violence in the streets as fans meet after the match ok Trampolin si è il campionato di caccio e niente la gente fa le viste però adesso ci interessa che viene il processo al posto della mafia aiaiaiaia oh allora questa due questa così vediamo prima questa vediamo questa queste non ce le ho vediamo questo due poliziotti qui Ok. Vediamo se con i prossimi 10 minuti ce la facciamo a finire il nostro video. La nostra missione è la stanza di servizio, l'emergenza biologica, l'estinto al rischio come oggi, io prenderei gli estintori, ragazzi, perché... Sì. Quindi, gli estintori. Possiamo fare una cosina. Siamo qui... Però la ne metto uno solo, ma la mettiamo nel duro, va? Sì. 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 Grazie a tutti. A candidati ci abbiamo tre poliziotti, ciao, notte, vigile del fuoco, notte, poliziotto, giorno, appunto c'è notte. Questa andrebbe tutta richiesta, stanza, stanza, magari gli armadie tutta una parte e gli strumenti tutti dall'altra. Però adesso non ci interessa quello che vogliamo fare è finire questa cavolo di emissione. Grazie. 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 Ciao, l'on paura è stato un po' più grande. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok ragazzi, siamo finalmente a questo benedetto processo, eccolo qui. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Oh, finalmente. Oh, man. 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 Oh, man.